L'attenzione all'ecosostenibilità e al cambiamento climatico è un segmento significativo dell'offerta formativa delle scuole italiane, che da sempre realizzano progettualità in grado di contribuire alla comprensione del complesso rapporto uomo-ambiente. Il recente PON sugli ambienti e i laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica promuove processi intenzionali di cambiamento attraverso l'azione mediante l'allestimento di giardini e orti didattici innovativi e sostenibili all'interno dei plessi scolastici. Quindi un'azione assolutamente pratica in cui molte sono le componenti tecnologiche da gestire. Basti pensare al sistema di controllo e monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, acustico e luminoso, ma anche al controllo automatico dei parametri ambientali che permettono la crescita di piante. Ma come progettare simili attività? Il corso, indirizzato a docenti di ogni ordine e grado, anche di discipline non tecniche, ha l'obiettivo di fornire le competenze per gestire le tecnologie necessarie per realizzare laboratori per la sostenibilità ambientale, utilizzando i medesimi strumenti usati per l'apprendimento del coding e della robotica educativa. Verranno mostrati esempi applicativi sperimentati, utilizzabili immediatamente in classe, e saranno rese disponibili tutte le risorse utilizzate, programmi e schede di progetto, in modo da facilitare l'azione del docente. Vi aspetto quindi al mio corso.